Amici di Planet TV, bentornati a questo nuovo appuntamento, questa volta siamo arrivati vicino Montecatini, fra Pistoia, Montecatini c'è Montsulmano e c'è Montevettolini, Montevettolini vero siamo? Sì, credo di sì, io so solo la cosa, salve amici di Planet TV, che io adoro questi posti perché sono in mezzo alla natura e quando siamo nell'agriturismo quindi vuol dire che si mangia cose sane, insomma mi piacciono gli ambienti così. Siamo in un posto che già il nome è tutto un programma, si chiama 18.1, scopriamo che cosa vuol dire 18.1, andiamo a scoprire che cosa fanno qua al 18.1 perché fanno delle serate veramente belle e arriva fino a qua, tanta gente, capiamo il perché, essendo il nostro rotocalco capiamo perché viene qua così tanta gente. Perché? 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 E allora andiamo dentro Marco perché ci sta aspettando, c'è dentro lì, aspettarci, DJ Cristiano Matto, un DJ tutto matto. Laura Togafondi, Marco Vigiani, il nostro regista Fabio Innocenti, 18.1 Planet TV, andiamo. Benvenuti al 18.1, 18.1. Benvenuti. Benvenuti. Quindi visto che siamo all'entrata voi date il benvenuto perché dentro cosa ci aspetta? Una grandissima festa, un grandissimo divertimento, grandissima, bellissima gente che si diverte, viene qui per passare una serata in allegria. Grazie a tutti. 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 Stasera, stasera, stasera. Buono ci svegliata. Svegliata. Grazie a tutti. Cecherini e cosa si chiarebbe Giuliano San Giorgio escalato da的人ine di piccole? Aw productbesondere. ciao 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 diamo un taglio vero a tutte le cose brutte guarda che ho l'orecchio i forbici perché ha una parrucchiera famosa il motto di qua è your life is our style il tuo motto invece è image all you can be fantastica 18.1 sia la grande dove siamo dove siamo è 18.1 mamma mia quanti siamo anche stasera ragazzi facciamo il penone il sabato notte è un'armonia eh una semplica armonia lo facciamo lo facciamo il nostro primo in tavoli e anche stasera è fantastico più che puoi più che mai lui è laureato 30 anni 30 anni 30 anni ma di galera ti dando se bevi tutto questo 30 anni di galera ti dando si sta tanto guidando lui guardate qui dottore dottore amministrazione controllo allora è una grande festa si grande festa stasera è una grande festa ma come sono questi ragazzi belli bravi e che si può dire di più a posto ragazzi a posto e oggi si compreanno oggi si compreanno un bacio un bacio un bacio tutti su planet tv a presto 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 12 12 12 13 15 12 12 12 12 12 13 14 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 17 16 18 17 18 20 20 20 20 21 21 21 21 22 22 22 22 22 22 22 22 25 23 24 23 la tua vita è il nostro stile quindi il tuo stile è meraviglioso no vabbè allora diciamo che ora ho cambiato un po' lo stile che avevo e che ho avuto in primi tempi che era quello poi di mascherarsi era quello di giocare un po' con il pubblico poi alla fine devi scegliere o fai giullare o comunque devi comunque sempre far divertire la gente ho visto che hai fatto travestire tutto il personale per noi il sabato sera è fondamentale cioè il sabato sera noi giochiamo sul fatto che deve essere una festa in casa la nostra non è una discoteca è un disco bar è comunque un locale che mira ad un pubblico abbastanza adulto uno viene al 18.1 e si deve sentire a casa sua e vi spiego che cosa vuol dire poi 18.1 18.1 è nato da un'idea di mettere insieme dei numeri per uscire poi da quelli che sono sempre i format dei soliti nomi e allora abbiamo messo insieme questi numeri che richiamano la diciottesima lettera dell'alfabeto che è la T e la prima lettera dell'alfabeto che è la A dunque la T e la A vanno a formare la parola ti amo se volete dire ti amo la vostra ragazza scriveteli di 18.1 guinzio al 18.1 per Planet TV ecco però davanti al 18.1 di una frase d'amore ma proprio da amare da amare è proprio Planet TV da qui i sociali stanziali facciamo questo decantino Luca Furzio per cappello 18 anni sì per gamba però mamma mia stasera mamma mia che confusione E' un buon ragazzo Ogni tanto passano